Per Fratelli d'Italia le alleanze si costruiscono sui fatti e sui contenuti che interessano gli italiani. Cominciamo a vedere chi è disponibile a scendere in piazza con noi sabato 7 marzo a Venezia, a stazione di Santa Lucia, in una manifestazione che abbiamo chiamato Difendiamoci. Difendiamoci dalle politiche di un governo che continua a fare gli interessi delle lobby, della grande finanza e massacra gli italiani per bene e l'economia reale. E su quello si ricostruiscono delle alleanze.